Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. A volte le donne che lavorano di notte sono esposte a pericoli significativi, come dimostra il caso di cui vi parlo oggi. Questa tragica storia evidenzia i rischi di aggressioni e rapimenti in ambienti isolati o scarsamente sorvegliati, sollevando la questione urgente della necessità di migliori misure di protezione, ancora insufficienti in molti luoghi. È la primavera del 2013 e ci troviamo a Northern Shores, nel Michigan. Qui vive Jessica Heringa. Nasce il 16 luglio 1987, i suoi genitori si chiamano Shelley e Pete. È la più giovane di tre figlie, infatti ha due sorelle di nome Samantha e Angel. Jessica viene descritta come una ragazza intelligente, anzi brillante. A scuola ottiene ottimi risultati, è particolarmente brava in matematica e le piace a tal punto che da grande vuole diventare una contabile. Tuttavia la vita di Jessica prende una svolta in attesa a seguito di un incontro che fa all'età di 20 anni, quello con un ragazzo di nome Dakota Quail Dye. Entrambi lavorano in un ristorante, è lì che si sono conosciuti. Hanno iniziato a frequentarsi e alla fine Jessica si innamora perdutamente di lui. Quando si verifica questo caso, nel 2013, i due sono fidanzati ufficialmente e Dakota ha anche chiesto a Jessica di sposarlo. Prima che si compiano effettivamente le nozze all'età di 22 anni, Jessica mette al mondo suo figlio, un bambino di nome Zevin, che adora con tutto il cuore. È una bravissima mamma, amorevole e premurosa. Legge sempre tante storie a Zevin, gioca con lui, gli insegna le buone maniere fin da quando è molto piccolo. Jessica continua a essere tanto legata alla sua famiglia d'origine, soprattutto a sua madre e alle sue sorelle. Tutte adorano andare in spiaggia e costruire castelli di sabbia con il piccolo Zevin. Nel 2013, però, sua madre Shelly e una delle sue sorelle, Samantha, lasciano Norton Shores, dove Jessica vive ancora, per stabilirsi nello stato della Florida. Di lì a poco, Jessica si rende conto che è difficile gestire tutto senza il loro aiuto. Nonostante anche Dakota si prenda cura del figlio, lei era abituata ad avere vicino la mamma e la sorella e ora le pesa non poterle più vedere spesso. Jessica vuole darsi da fare per garantire la migliore vita possibile a Zevin, per questo ha trovato un nuovo lavoro presso la stazione di servizio Exxon sulla East Sternberg Road, sempre a Norton Shores. Non emergono informazioni riguardante l'attuale professione di Dakota, né resoconti disponibili pubblicamente, ma pare che in questo periodo non lavorasse. In ogni caso, venerdì 26 aprile 2013, Jessica sta svolgendo un turno di notte alla stazione di servizio in cui lavora. È da sola, ma ci è abituata, perché spesso è proprio lei che resta fino alla chiusura delle 23.30. Inoltre, diversi clienti abituali apprezzano molto la sua compagnia, per cui si trattengono a chiacchierare con lei. Jessica, nello specifico, fa la commessa e, oltre a servire i clienti, deve pure pulire il negozio. Alle 23.07 del 26 aprile, uno dei clienti abituali della stazione di servizio di nome Craig Harpster recupera la pompa di benzina con l'intenzione di fare il pieno alla sua macchina, ma non ci riesce. Di solito un dipendente della stazione di servizio ha il compito di attivare l'erogatore all'interno del negozio, ma Craig è lì, in piedi ad aspettare già da un po'. Così rimette a posto la pompa ed entra, ma non vede nessuno, né dietro il bancone né nei corridoi del negozio. L'uomo va in giro chiedendo, ehi, c'è qualcuno qui, ma non ottiene alcuna risposta. Sembra proprio che in quella stazione di servizio non ci sia nessuno, ma quindi dov'è finita Jessica? Il cliente raggiunge il retro del negozio, si addentra nel magazzino dove solo i dipendenti sono autorizzati a entrare, per controllare se l'addetto si trovi lì, ma anche in questo caso non ha successo. Allora Craig si avvicina al bancone e stavolta, osservando con maggiore attenzione, nota che la cassa è leggermente aperta. La situazione è sospetta, il negozio è deserto e la cassa contabile è accessibile a chiunque. Craig non si è mai imbattuto in uno scenario del genere, quindi decide di chiamare il 911. Riferisce all'operatore che non sa se la sua sia proprio un'emergenza, ma spiega di essere nel negozio di una stazione di servizio dove non c'è nessun dipendente. La situazione stranisce anche l'operatore che manda immediatamente un agente a dare un'occhiata. Appena arriva il poliziotto si confronta con Craig, poi ispeziona l'ambiente per assicurarsi che non ci sia davvero nessuno all'interno. Una volta che ne ha la conferma viene chiamata la direttrice del negozio, Sue Follett, la quale afferma che una delle sue dipendenti, Jessica Heringa, avrebbe dovuto lavorare lì quella sera, fino alla chiusura dell'attività. Eppure sembra che se ne sia andata in anticipo e all'improvviso senza nemmeno chiudere cassa e porta, il che risulta davvero improbabile considerando che Jessica è una lavoratrice affidabile. Per di più la ragazza ha lasciato lì la borsa, rimasta accanto al registratore di cassa, mentre la sua giacca è ancora nel magazzino e, soprattutto, la sua macchina è sempre parcheggiata fuori dalla stazione di servizio. Davvero Jessica potrebbe essersi allontanata a piedi? Oppure qualcuno era passato a prenderla? Forse le è successo qualcosa di più sinistro? Potrebbe essere stata rapita? Visto che Jessica sembra scomparsa, la polizia si mette subito in contatto con il suo fidanzato Dakota. Forse lei si trova con lui, che era passato a prenderla? In realtà no, il ragazzo spiega di essere rimasto a casa tutta la sera con il loro bambino, inoltre afferma che non ha la macchina, per cui avrebbe dovuto chiedere un passaggio a qualcuno per arrivare alla stazione di servizio. Dunque i due condividono la macchina e in realtà persino il cellulare che quella sera Dakota tiene a casa con sé. Quindi Jessica non avrebbe nemmeno avuto modo di contattare nessuno. Dakota ora è preoccupato, decide di raggiungere anche lui la stazione di servizio chiedendo un passaggio a un amico. E questa preoccupazione per Jessica diventa terrore quando gli ufficiali della scientifica, intervenuti sulla scena del crimine, trovano una traccia di sangue nel retro del negozio. Prelevano un campione che viene inviato al laboratorio e i risultati rivelano che appartiene proprio a Jessica. Gli agenti nei paraggi individuano anche una parte accessoria di una pistola, il cappuccio di una batteria, per terra. La teoria che emerge rapida è la seguente. Jessica doveva essere stata aggredita mentre portava fuori la spazzatura. Dato che Jessica si occupava della chiusura del negozio, avrebbe dovuto riordinare, pulire e gettare via i rifiuti. Siccome il bidone della stazione di servizio viene trovato vicino alla porta sul retro, si suppone che Jessica lo stesse trascinando all'esterno, ma forse mentre era sulla soglia qualcuno l'aveva aggredita e rapita. Non aveva quindi avuto nemmeno il tempo di chiudere la cassa. Nel tentativo di risalire all'ora della presunta aggressione, la polizia ipotizza una cronologia degli eventi. Sa che Craig Harpster era arrivato alla stazione di servizio circa 20 minuti prima della chiusura, alle 23.07. L'ultima transazione sul registratore di cassa era stata eseguita alle 22.55, quando una cliente era entrata per acquistare un accendino. Lei viene rapidamente identificata ed esclusa dalle indagini come sospettata. Quindi a Jessica deve essere successo qualcosa in questo breve lasso di tempo. Tra l'ultima vendita effettuata e l'arrivo di Craig Harpster si snodano appena 12 minuti. Ma cos'era avvenuto in meno di un quarto d'ora? A questo proposito Sue, la manager del negozio, fornisce alla polizia un ulteriore elemento da valutare, perché spiega che lei e suo marito erano usciti in motocicletta ed erano passati davanti alla stazione di servizio verso le 23, quindi sono 5 minuti dopo l'ultima transazione. Questo restringe ulteriormente l'arco temporale di riferimento, ma non solo, in quanto Sue aveva notato qualcosa di strano dando un'occhiata all'esterno del negozio. C'era un minivan color argento parcheggiato sul retro anziché nel parcheggio davanti all'entrata della stazione di servizio. Eppure sul retro parcheggiano soltanto i fattorini che devono consegnare la merce per il negozio e questo accade unicamente il giorno. La stazione di servizio non riceve mai gli ordini a quell'ora di sera. Insospettiti Sue e il marito avevano deciso di fermarsi nei paraggi preoccupati che fosse in atto un tentativo di rapina. Avevano osservato la scena per circa un minuto. Il conducente del veicolo continuava ad aprire e chiudere il portellone posteriore nel tentativo di sistemare il contenuto. Sue e il marito non erano abbastanza vicini per vedere cosa stava spostando. Tuttavia, alla fine, l'uomo aveva chiuso il portellone per l'ultima volta. Era salito a bordo del minivan, che era certamente una Chrysler Town Country, e se ne era andato passando proprio a fianco a Sue. La donna e suo marito quindi erano riusciti a vedere il guidatore bene in faccia e riferiscono alla polizia che aveva i capelli biondi e piuttosto trasandati. Forse perché poco prima aveva aggredito Jessica e lei durante la collotazione gli aveva afferrato i capelli. E quando l'uomo apriva e chiudeva lo sportello del furgone, era forse intento a nascondere il corpo della ragazza? Grazie a Sue viene disegnato un identikit. La polizia ha una prima pista da seguire, avvalendosi della descrizione del sospettato e del suo veicolo. Crede fermamente che l'uomo avvistato sul retro della stazione di servizio abbia a che fare con la scomparsa di Jessica. Quando i cani da fiuto vengono portati sul posto, quello che rilevano conferma ulteriormente questa teoria. Annusano e seguono l'odore di Jessica delineando una traccia che conduce proprio fino al retro del negozio, dove la manager e il marito avevano visto il minivan colore argento. Bisogna assolutamente rintracciare quel minivan, reperire la targa del veicolo che suo e suo marito non sono riusciti ad annotare. Così gli ufficiali chiedono di poter visionare i filmati di sorveglianza. Masu afferma che non ci sono telecamera a circuito chiuso alla stazione di servizio. Allora gli agenti provano ad accedere ai video delle attività commerciali situate nelle vicinanze, nella speranza di individuare il furgone. Analizzando il filmato di un'azienda collocata su una strada lì accanto, l'autista del minivan argentato viene avvistato alle 23.05 del 26 aprile. Transita lungo la strada solo pochi minuti dopo che Sue lo aveva notato alla stazione di servizio. Il furgone viene anche ripreso dalle telecamere di sorveglianza di altre aziende presenti sulla stessa strada, sempre dopo la scomparsa di Jessica. La polizia crede che Jessica fosse rinchiusa all'interno del mezzo, ma sebbene questi filmati rappresentino una prova importante, i video sono sfocati, non si riesce a distinguere la targa del veicolo né a vedere i passeggeri. Le riprese però confermano le affermazioni di Sue, la quale pensava che quel furgone fosse un Chrysler Town Country. Ma purtroppo, all'epoca, questo tipo di minivan è uno dei più popolari, se ne contano diverse migliaia solo nello stato del Michigan. Quindi, cercare di trovare il possibile colpevole esaminando coloro che possiedono questo modello di furgone, si rivela impossibile. Nel frattempo la famiglia di Jessica sta facendo tutto il possibile per collaborare con la polizia. Quindi, crea volantini e poster con la foto di Jessica e li distribuisce o attacca in tutta la zona. Poi, lancia un appello al pubblico durante il telegiornale, nella speranza di ottenere qualche informazione utile. I cari di Jessica si augurano con tutto il cuore che lei torni a casa sana e salva, perché il piccolo Zevin la sta aspettando. Anche il suo fidanzato, Dakota, appare durante un telegiornale per chiedere aiuto nelle ricerche. deciso a tentarle tutte pur di trovare la sua ragazza. La polizia, però, deve indagare anche su Dakota per escluderlo dai sospettati e scopre che la relazione tra lui e Jessica era in crisi al momento della sua scomparsa. I due erano ancora fidanzati, anzi stavano per sposarsi, ma non erano più felici insieme. O almeno, Jessica sembrava distante. Diversi problemi finanziari avevano messo a dura prova il loro rapporto e Jessica era quella che avvertiva maggiore pressione sulle spalle, concentrata a guadagnare abbastanza soldi per tutta la famiglia. Come detto, infatti pare che all'epoca Dakota fosse disoccupato. Ecco perché Jessica si era proposta per lavorare molte ore alla stazione di servizio e, ciò nonostante, nella coppia era quella che sbrigava la maggior parte delle faccende domestiche. Secondo la sua famiglia, infatti, era lei che si occupava delle polizie, della spesa, del bucato. Insomma, Jessica sosteneva dei lunghissimi turni di lavoro, ma quando tornava a casa si ritrovava sommersa da altri compiti e, come immaginerete, questa situazione le aveva generato una percezione negativa della sua storia d'amore. Jessica scriveva spesso nel diario i suoi pensieri sulla relazione con Dakota. Ve ne leggo una piccola parte da cui risaltano le sue emozioni. Mi fa così arrabbiare tutto il tempo. È talmente egoista e pigro. Questo è ciò che mi dà davvero fastidio. Torna a casa e non fa assolutamente nulla. Da altre pagine emerge chiaramente che era insoddisfatta, oppure perché avvertiva che molti aspetti della sua vita venivano controllati da Dakota. Lui era piuttosto autoritario quando si trattava di gestire i soldi. Anche se era lei a guadagnarli, lui decideva come andavano spesi. Ma non solo. Dakota esaminava anche le persone con cui Jessica trascorreva il suo tempo. Era lui a scegliere quali amici avrebbe visto o sentito via messaggio, tramite il loro cellulare condiviso. Jessica infine aveva riportato nel diario un fatto ancora più grave. In un'occasione Dakota era stato violento nei suoi confronti e purtroppo il loro figlio di tre anni era stato testimone dell'accaduto. Dopo aver appreso queste informazioni la polizia nutre dei sospetti su Dakota. Tuttavia alla fine lo esclude definitivamente dalle indagini, certa che non abbia niente a che fare con la scomparsa di Jessica. Come detto la coppia aveva una sola macchina e Jessica quella sera l'aveva usata per recarsi al lavoro. Poi al di là di questo i tabulati telefonici del cellulare in condivisione dimostrano che Dakota aveva detto la verità. Quella sera era sempre rimasto a casa con suo figlio. Eppure la famiglia di Jessica per diverso tempo continua a credere che il responsabile della sua scomparsa sia proprio Dakota. È chiaro che ai suoi parenti lui non è mai piaciuto. Affermano che è violento, controllante e manipolatore ma non sussistono prove sufficienti per considerarlo ancora un sospettato. Le indagini a questo punto si concentrano sugli amici di Jessica. Dopo averli interrogati gli agenti scoprono che tanti uomini le facevano visita al negozio. Tutti la considerano una ragazza dalla personalità frizzante e socievole ma molti di loro interpretavano il suo comportamento nel modo sbagliato e sviluppavano dei sentimenti nei confronti di Jessica che lei non avrebbe mai ricambiato. Uno di questi è l'idraulico 37enne Jess Hammerman che nonostante fosse sposato si era innamorato perdutamente di Jessica. L'uomo ammette alla polizia che la notte della scomparsa di Jessica era andato al distributore di benzina intorno alle 21 e 30 per dichiararle il suo amore e manifestarle la sua intenzione di divorziare dalla moglie per stare con lei. Jessica però non ricambiava i suoi sentimenti per cui gli aveva fatto notare l'insensatezza dei suoi propositi così Jess se n'era andato dalla stazione di servizio con il cuore in frantumi. Spiega che aveva guidato fino a un altro parcheggio poi aveva chiamato sua moglie e due avevano parlato al telefono per più di un'ora. La polizia controlla i video di sorveglianza della zona e i tabulati telefonici di Jess per confermare la sua versione dei fatti che si rivela veritiera ma la polizia non lo rilascia immediatamente. Vuole prima parlare con la moglie di Jess la quale afferma che era a conoscenza dei sentimenti che suo marito nutriva per quella ragazza e lo accettava. La polizia però non le crede. Reputa improbabile che una donna possa accettare serenamente che il marito sia innamorato di un'altra donna. Così chiede alla coppia se è disposta a sottoporsi al test del poligrafo. Entrambi i coniugi acconsentono ma i risultati non vengono mai resi noti al pubblico. In ogni caso sembra che emergano prove sufficienti affinché la polizia li tenga sotto controllo ma non li considera come principali sospettati. Le autorità esaminano anche un uomo di nome Rob Follett il fratello della manager del negozio. Su lui dice alla polizia che alle 21 si era fermato alla stazione di servizio mentre stava andando a pescare per comprare delle sigarette. Ammette che prima della sua scomparsa Jessica gli aveva confidato che non era felice della sua vita familiare. Rob allora, pure lui, gli aveva proposto di stare insieme ma Jessica aveva rifiutato. Questo spinge la polizia a indagare su Rob a verificare il suo alibi per scoprire se fosse stato davvero presente a quella battuta ripesca. In effetti era rimasto alla stazione di servizio solo per un paio di minuti, poi aveva guidato per 40 miglia fino al luogo in cui svolgere l'attività menzionata. La polizia quindi traccia delle piste ma poi si rivelano tutte vicoli ciechi. Così viene istituita una task force composta da diversi agenti di polizia ed alcuni detective dell'FBI, tutti esclusivamente dedicati al caso di Jessica. La polizia rilascia al pubblico l'identikit del sospettato e le informazioni sul minivan argentato, dopodiché riceve molte chiamate con potenziali suggerimenti e indizi. In tanti affermano di conoscere la persona disegnata nell'identikit, ma la polizia non riesce a ottenere le prove di cui ha bisogno per collegare qualcuno al crimine. Trascorre un anno senza che le indagini facciano progressi, ma la famiglia di Jessica non si arrende. Però il figlioletto della ragazza, Zevin, dice ai suoi nonni che è preoccupato perché teme che quando la sua mamma tornerà a casa non lo riconoscerà più. All'inizio del 2014 un nuovo potenziale sospettato emerge nel caso di Jessica. Si tratta di Brad Mason, un uomo che aveva trascorso del tempo in prigione, condannato per reati intimi e non, attiosceni in luogo pubblico, violenza intima, aggressione e violazione di domicilio. Era stato rilasciato nell'ottobre 2012, tuttavia dopo poco tempo era diventato un sospettato per il rapimento e l'aggressione intima di una donna di 24 anni avvenuta a Kalamazoo, una città del Michigan. Questa donna una sera stava camminando lungo la strada per andare a casa del suo ragazzo, quando all'improvviso un uomo l'aveva afferrata da dietro e trascinata nel retro del suo camioncino parcheggiato lì vicino. Il rapitore aveva tenuto questa donna chiusa lì dentro per ore, l'aveva aggredita intimamente più e più volte e le aveva ribadito che non ne sarebbe uscita viva perché lui l'avrebbe uccisa. Fortunatamente alla fine aveva deciso di lasciarla andare e lei aveva contattato la polizia. Dunque, tempo dopo, nel febbraio del 2014, Brad Mason viene identificato come l'autore di questo reato e la polizia va a casa sua per arrestarlo. Tuttavia la cattura non va secondo i piani perché si verifica una situazione di stallo tra Brad e gli agenti di polizia. Quando Brad apre la porta di casa, gli ufficiali notano che tiene in mano una pistola. Loro non sanno che è finta, infatti gli urlano contro ordinandogli di lasciare cadere a terra l'arma immediatamente. Brad però si rifiuta, allora gli agenti, temendo per la propria sicurezza e per quella dei passanti, non hanno altra scelta che sparare a Brad Mason, il quale viene ucciso a colpi di arma da fuoco sulla soglia di casa. A seguito della sua morte, gli investigatori di Kalamazoo, che hanno indagato sul rapimento e sulla violenza intima ai danni della 24enne, prendono in considerazione la possibilità che Brad Mason sia coinvolto in altri casi simili. Così lo collegano alla sparizione di Jessica Herenga a Norton Shores, nel Michigan, come Kalamazoo. La donna scomparsa alla stessa età della vittima di Brad Mason, ma soprattutto lui ha una connessione con Norton Shores, dove Jessica viveva e lavorava. Infatti, un paio d'anni prima aveva vissuto temporaneamente in una casa di accoglienza in zona, mentre era in libertà vigilata, dopo essere stato rilasciato dalla prigione. Questa casa di accoglienza si trova proprio a poche miglia di distanza dalla stazione di servizio Exxon. Non emerge chiaramente se Brad vivesse ancora lì nell'aprile del 2013, ma aveva comunque un amico a Norton Shores, quindi una buona ragione per frequentare la città. Forse, dopo avergli fatto visita, aveva deciso di rapire la giovane Jessica Herenga. Purtroppo, ancora una volta, la polizia non è in grado di ottenere alcuna prova concreta per dimostrare che la persona di cui sospetta è davvero coinvolta nella scomparsa di Jessica. Inoltre, dato che ormai Brad è deceduto, è impossibile ottenere una confessione da lui. Brad viene considerato un sospettato fino al 2016, tre anni dopo la scomparsa di Jessica. Poi emerge l'ennesima persona di interesse, a seguito di un altro rapimento. Nell'aprile del 2016, una sedicennie, la cui identità non viene resa pubblica, sta camminando lungo una strada nella contea di Musgion, nel Michigan, dopo una festa in casa di alcuni amici. Ha bevuto e fumato un po' di sostanza leggera. Doveva essere riaccompagnata a casa da un amico, ma siccome lui ha bevuto troppo, ha deciso di addormentarsi in macchina. La ragazza, ritrovatasi da sola senza un passaggio, sta raggiungendo a piedi l'abitazione di un parente. Però a un certo punto si perde e finisce per vagare nella zona rurale di Laketon Township, sulla Green Creek Road. La sedicenne si imbatte in un uomo in bicicletta e gli chiede se può usare il suo cellulare, dato che il suo è scarico, per ritrovare la strada. Entra quindi su Google Maps alla ricerca della direzione giusta, poi chiede all'uomo se può chiamare sua madre. Tuttavia, prima che riesca a farlo, il cellulare del passante si spegne, ormai scarico. Allora lui le spiega in che direzione deve proseguire, poi si allontana. Poco dopo, un uomo a bordo di un minivan colore argento si ferma accanto alla ragazza e le chiede se ha bisogno di un passaggio. Lei risponde di sì, ma non appena sale sul furgone. L'uomo la minaccia con una pistola e riprende a guidare. La ragazzina capisce che la sua vita è in pericolo, ma fortunatamente riesce ad aprire la portiera e a saltare fuori mentre il veicolo è in movimento. Corre il più velocemente possibile verso la casa di una donna di nome Dawn Schmidt bussa alla porta e urla chiedendo aiuto. Dawn, seduta sul terrazzo a bere un caffè, raggiunge l'adolescente e la fa entrare subito in casa, dopodiché chiama la polizia che sopraggiunge sul posto. La polizia si ritrova davanti al caso di un tentato rapimento e interroga la giovane vittima sull'accaduto di quella notte. La sedicenne descrive il suo rapitore e afferma che guidava un minivan colore argento. La polizia cerca un video di sorveglianza della zona in questione e identifica il veicolo che dovrebbe appartenere al sospettato. Lei c'è la targa, stavolta visibile, e scopre finalmente che il proprietario del famigerato furgone è un uomo di nome Jeffrey Willis. Quando le mostrano una sua foto, la ragazzina lo riconosce immediatamente, è lui che ha tentato di rapirla. Dunque Jeffrey Willis viene immediatamente arrestato e la polizia perquisisce il suo minivan e la sua casa. Jeffrey Willis possiede un minivan Silver Dodge Caravan del 2006, in cui la polizia trova cinque seringhe, una delle quali contenente insulina. Reperta anche delle fotografie di donne incatenate e invavagliate, una maschera, dei guanti e una telecamera. Rinviene pure una cassetta degli attrezzi con dentro una piccola scatola contenente dei guanti in nitrile, delle buste di plastica, delle manette, una corda, una catena e un bavaglio. Pare proprio che questi oggetti facciano parte di un kit organizzato per rapire o fare violenza su qualcuno, quindi il tentato rapimento della sedicenne non è di certo un caso isolato. Probabilmente Jeffrey prima editava i suoi attacchi, ma quella sera stava guidando senza meta alla ricerca di una vittima. Come detto, la polizia perquisisce anche la casa di Jeffrey e trova prove ancora più inquietanti. Controllando il suo computer individua una cartella dal nome fatto in casa, dentro la quale ci sono più di 15.000 video di ragazzine delle scuole superiori che partecipano alle gare di nuoto e di pallanuoto, con le inquadrature tutte ingrandite sulle loro parti intime. Jeffrey inoltre si fermava davanti alle finestre delle case di diverse donne e le riprendeva mentre si spogliavano. Gli agenti trovano poi vari hard disk esterni che contengono diverse migliaia di altri video inquietanti. Jeffrey li aveva scaricati dal dark web e mostrano omicidi, rapimenti, violenze intime e filmati indecenti di bambini. Quest'uomo è chiaramente un predatore, ma anche un pedo. Viene arrestato e accusato immediatamente di rapimento e aggressione con un'arma al seguito. Solo dopo il suo arresto, la polizia deduce che il rapimento della sedicenne non è sicuramente il primo crimine commesso da Jeffrey. È molto probabile che ci siano altre vittime, come accennato parlando del kit per l'assalto. Dunque Jeffrey Willis potrebbe essere il responsabile della scomparsa di Jessica avvenuta tre anni prima? Si arriva a questa conclusione proprio perché il suo veicolo, il minivan, corrisponde alla descrizione del furgone che era stato visto alla stazione di servizio la notte in cui Jessica era scomparsa. Ma prima di proseguire lasciate che vi racconti chi è Jeffrey Willis. È nato il 6 marzo 1970 e dalle fonti emerge chi ha vissuto un'infanzia normale, figlio di una donna della classe media, ha quattro fratelli e ha frequentato la Fruitport High School nel Michigan. Si è diplomato nel 1988 e in seguito ha frequentato il college dove ha studiato storia. Ai tempi del liceo appariva come un ragazzo popolare, aveva molti amici, era considerato un tipo intelligente, anche se talvolta poteva risultare arrogante e pieno di sé. Un'ex compagna di scuola di Jeffrey si è fatta avanti affermando che una notte si trovava nella sua macchina parcheggiata che avevano iniziato a baciarsi. Era chiaro che Jeffrey voleva andare oltre, ottenere più di qualche bacio, ma la ragazza si era rifiutata perché non si sentiva ancora pronta per quel passo. Allora Jeffrey si era arrabbiato tantissimo e lei aveva trascorso tutto il tempo del tragitto di ritorno terrorizzata. Aveva davvero paura di lui. Si era tranquillizzata solo quando erano arrivati nei pressi di casa sua ed era potuta scendere dalla macchina. Jeffrey poi si era sposato, lui e sua moglie avevano messo al mondo una figlia, ma la compagna era morte in un incidente d'auto. Così nel 2003 aveva sposato un'altra donna di nome Charlene. I due erano rimasti insieme per circa 13 anni, tuttavia circa tre anni prima che Jeffrey convolasse a nozze con Charlene nel 1999 era stato protagonista di un fatto increscioso. Lavorava in una scuola elementare come Bidello ma era stato licenziato quando la dirigenza aveva scoperto che usava i computer della scuola per vedere dei contenuti hot, piccanti su internet. Cosa peggiore aveva mostrato quei video anche a uno dei bambini che frequentavano la scuola. In seguito era stato assunto come operaia in una fabbrica e per la maggior parte del tempo riusciva a fingersi una persona innocua, un comune padre di famiglia. Non aveva precedenti penali registrati quindi non era noto alla polizia, dunque nessuno sapeva quanto fosse pericoloso Jeffrey Willis. Soltanto nella primavera del 2016 come detto diventa un sospettato nel caso di Jessica Heringa dopo aver tentato di rapire quella ragazzina di 16 anni. Solo ora la polizia si accorge che il suo minivan argentato corrisponde alla descrizione del furgone avvistato alla stazione di servizio in cui Jessica lavorava e da cui era scomparsa. Come se non bastasse Jeffrey diventa ben presto il principale sospettato anche dell'omicidio di un'altra donna Rebecca Blech di 36 anni. Vi parlo di lei. Rebecca è nata il 23 novembre 1977 e viveva nella contea di Muskegon nel Michigan. I suoi genitori si chiamano Nicholas e Deborah, suo marito Kevin, sua figlia Ellie e la figliastra Megan. Rebecca lavorava in una casa di cura come assistente terapista occupazionale e faceva l'allenatrice di basket delle alunne delle scuole medie. Dunque era una donna attiva, sportiva, che amava anche fare jogging. Il 29 giugno 2014 intorno alle 18 Rebecca era uscita di casa per andare a correre. Si trovava a un miglio da casa sua quando qualcuno le aveva sparato alla testa per tre volte. Alle 18 e 11 era stata trovata da un passante di nome Mark Clint che di primo acchitto credeva che lei fosse stata vittima di un pirata della strada. Per fortuna la donna respirava ancora e Mark aveva subito chiamato la polizia. Purtroppo però gli investigatori quando erano accorsi e avevano esaminato il suo corpo si erano resi conto che Rebecca ormai era senza vita. Accanto a lei erano stati rinvenuti i suoi occhiali da sole, gli auricolari e il cellulare, collocati in una fascia per il braccio e disposti su un lato della strada. In quel momento suo marito e le figlie si trovavano in campeggio quindi non si sa esattamente quando Rebecca fosse uscita e fosse stata assassinata. L'ora che vi ho indicato poco fa, le 18, è una stima degli investigatori. Inoltre non ci sono testimoni che avessero visto o sentito qualcosa. La polizia aveva avviato prontamente le indagini però a quel tempo anche questo caso si era raffreddato perché non erano emersi indizi significativi. Ma poi come detto circa due anni dopo Jeffrey Willis viene arrestato nel 2016. Nel suo minivan oltre al kit utile per rapimenti e aggressioni, gli investigatori sotto il sedile anteriore trovano una pistola calibro 22, un pacco con dentro sei pillole di Viagra e una lista di nomi di donne abbinati a degli indirizzi. Individuano anche dei bossoli corrispondenti alla pistola usata per sparare a Rebecca. Oltre a delle tracce del suo DNA su vari oggetti contenuti in quella macabra cassetta degli attrezzi. La polizia ipotizza che Jeffrey Willis si fosse fermato accanto a Rebecca mentre lei stava correndo e che l'avesse minacciata con la pistola per costringerla a salire sul suo minivan. Ma siccome lei si era rifiutata lui aveva deciso di ucciderla immediatamente per poi scappare. E non è finita qui perché sul computer di Jeffrey affierano ulteriori prove che lo collegano all'omicidio di Rebecca. Nello specifico una cartella rinominata VIX, una probabile abbrevazione per vittime. All'interno la polizia trova due sottocartelle rinominate con le iniziali di Jessica, ovvero JLH, e quelle di Rebecca, cioè RSB. Entrambe contengono delle foto di Jessica e Rebecca, oltre a degli articoli relativi ai loro casi di omicidio. La polizia individua anche una password J4L27H13 che mescola sia le iniziali di Jessica JLH che i numeri 42713 rappresentanti la data del giorno successivo alla scomparsa della ragazza, quindi il 27 aprile 2013. Chiaramente deve avere un significato importante per Jeffrey Willis. L'aveva rapita il 26 aprile e forse uccisa il 27? Nonostante il corpo di Jessica non sia ancora stato trovato, la polizia crede fermamente che sia morta e che fosse stato Jeffrey Willis ad ammazzarla. Mentre i detective lavorano per rafforzare il caso contro Jeffrey in relazione all'omicidio di Jessica, lui viene accusato anche dell'assassinio di Rebecca Blash e di un'ulteriore accusa per il possesso di materiale indecente su bambini. Si dichiara non colpevole incolpando suo cugino Kevin Bloom del delitto di Rebecca. Kevin Bloom è una guardia carceraria del Dipartimento di Correzione del Michigan che viene licenziato dopo le grave accuse di Jeffrey. La difesa di Jeffrey afferma che Kevin era ossessionato da Rebecca. Inoltre avrebbe preso in prestito la pistola del cugino poche settimane prima dell'omicidio della donna per poi restituirgliela dopo il delitto. Inoltre gli avrebbe anche riportato un paio di guanti. La polizia però ha abbastanza prove per smentire quanto Jeffrey e i suoi legali sostengono. Infatti il DNA di Kevin non è presente sulla pistola ma quello di Jeffrey. Sì. Inoltre tutte quelle foto sospette sono state trovate nel computer di Jeffrey e non in quello di Kevin. Ancora la moglie di Kevin interviene per testimoniare che lui era andato ad assistere a una partita di calcio insieme a lei il giorno in cui Rebecca era morta. Nel novembre del 2017 Jeffrey Willis viene condannato per l'omicidio di Rebecca Blash e per l'uso di un'arma da fuoco nella commissione di un crimine. La sua pena è l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Gli investigatori continuano a cercare prove che lo colleghino alla scomparsa e al presunto omicidio di Jessica. Tuttavia vincere un processo in assenza del corpo della vittima è complicato. Va presentata una notevole quantità di prove alla corte per dimostrare che lei è certamente morta e che Jeffrey Willis è l'uomo che l'aveva uccisa. In realtà però le prove abbondano. Prima di tutto il minivan argentato dell'uomo sembra essere lo stesso veicolo che la manager della stazione di servizio, Sue, aveva visto la notte in cui Jessica era scomparsa. Quello stesso furgone era stato avvistato anche tramite il filmato della telecamera a circuito chiuso di un'altra azienda. In secondo luogo si evidenziano le prove raccolte dal computer di Jeffrey, la password con le iniziali di Jessica e la data del giorno successivo alla sua scomparsa. Oltre a una quantità incredibile di foto della ragazza e di articoli di giornale sul suo caso, parliamo di quanto conservato nella cartella rinominata VIX, diminutivo di vittime. Queste rappresenterebbero già delle prove schiaccianti ma fortunatamente non sono le uniche che la polizia ha trovato. Infatti i tabulati del cellulare di Jeffrey Willis dimostrano che lui era stato diverse volte nella stazione di servizio Exxon su Sternberg Road prima della scomparsa di Jessica. Questo prova che conosceva la zona ma soprattutto che conosceva Jessica. Forse era persino uno dei suoi clienti abituali, gli aveva appreso gli orari dei suoi turni di lavoro. Sapeva che lei era impiegata nel negozio fino a tardasera e che era sola. Probabilmente per questo l'aveva scelta come vittima. Sarebbe stato facile rapirla visto che non c'era nessun altro nei paraggi. Le fonti riportano anche che i tabulati del cellulare di Jeffrey in relazione alla notte della scomparsa di Jessica lo localizzano vicino alla scena del crimine. Inoltre se ricordate la polizia aveva notato una piccola macchia di sangue sul retro della stazione di servizio che corrispondeva a Jessica e anche una parte accessoria di un'arma da fuoco. Emerge a questo punto che la pistola trovata nel furgone di Jeffrey Willis aveva una parte mancante corrispondente. Quindi la polizia crede che lui avesse usato quella pistola per minacciare Jessica, probabilmente anche per colpirla alla testa e farle perdere i sensi prima di infilarla nel retro del furgone. Infine analizzando l'identikit del sospettato risulta evidente che Jeffrey Willis assomiglia all'uomo raffigurato. Dunque sebbene la polizia non abbia ancora trovato il corpo di Jessica pensa di aver ottenuto prove sufficienti per dimostrare che lei era stata uccisa da Jeffrey. Il relativo processo inizia nel maggio del 2018 e in questa circostanza riappare sulla scena Kevin Bloom, il cugino di Jeffrey che stavolta viene accusato di aver mentito alla polizia. Quando era stato interrogato in seguito all'arresto di suo cugino aveva infatti detto ai detective che sapeva che Jessica era certamente morta. A ucciderla era stato Jeffrey e lui aveva visto il suo corpo senza vita. Nel dettaglio Kevin Bloom aveva detto alla polizia che il giorno dopo la scomparsa di Jessica suo cugino Jeffrey lo aveva chiamato e gli aveva chiesto di andare a casa del loro defunto nonno che era morto un paio di anni prima. La sua abitazione si trovava a Bailey Street a Norton Shore a circa 4 miglia di distanza dalla stazione di servizio Exxon in Stanberg Road. Era rimasta di proprietà della famiglia e non era mai stata venduta dunque era vuota ma gli eredi vi avevano accesso incluso Jeffrey. In risposta alla richiesta Kevin aveva chiesto spiegazione a Jeffrey perché avrebbe dovuto raggiungerlo in quella casa? Allora Jeffrey gli aveva detto che c'era una donna lì e che avrebbero dato una festa. Quando Kevin era arrivato era sceso nel seminterrato e aveva davvero visto una donna dai capelli biondi ma non si muoveva era legata nuda ed era chiaro che fosse stata colpita alla testa perché la ferita era molto evidente. Kevin si era detto convinto che quella donna fosse proprio Jessica e aveva riferito alla polizia che suo cugino Jeffrey la stava seguendo anzi perseguitando da un bel po' prima che lei svanisse nel nulla. Come abbiamo appreso dall'analisi dei tabulati telefonici di Jeffrey lui era effettivamente andato alla stazione di servizio Exxon diverse volte prima della scomparsa di Jessica. Kevin aveva ribadito che Jeffrey la stava spiando quindi che aveva scelto Jessica come sua vittima con parecchio anticipo. Quando l'aveva rapita l'aveva portata a casa di suo nonno, l'aveva legata e aggredita intimamente. Quindi Kevin Bloom aveva visto il corpo senza vita di Jessica e sapeva benissimo che suo cugino era colpevole di averla uccisa. Tuttavia non aveva allertato la polizia, bensì aveva aiutato Jeffrey a sbarazzarsi del cadavere. Kevin aveva spiegato che si era sentito costretto a farlo perché Jeffrey era uno di famiglia e la lealtà familiare viene prima di tutto. Dunque avevano avvolto il corpo di Jessica in un lenzuolo e poi l'avevano portato in una zona di Sheridan Road nella contea di Muskegon non lontana da dove Jeffrey viveva. Lì l'avevano seppellita. Quella zona era stata perquisita dalla polizia ma non era stato scoperto nessun cadavere. Quindi forse Kevin aveva mentito sulla posizione del corpo? Ottenere una dichiarazione sincera da lui sembra davvero complicato. Cambiava continuamente la sua versione dei fatti. Infatti alla fine dell'interrogatorio aveva ritrattato la sua dichiarazione affermando che non aveva fatto altro che raccontare bugie. O forse in verità si stava rimangiando tutto perché conscio che quella confessione lo implicava gravemente? Aveva davvero visto il corpo di Jessica nel seminterrato e ha aiutato suo cugino Jeffrey a nasconderlo o no? Kevin Bloom in ogni caso aveva certamente ostacolato le indagini. Alla fine era stato accusato di aver reso falsa testimonianza alla polizia e di complicità nell'omicidio di Jessica Haringa. Kevin dapprima si dichiara non colpevole ma poi cambia la sua dichiarazione. Ammette la propria colpevolezza e viene condannato a 476 giorni di prigione più 5 anni di libertà vigilata e dovrà anche indossare un localizzatore GPS per almeno un anno. Tuttavia non viene accusato di essere direttamente coinvolto nei crimini commessi da Jeffrey Willis. La difesa di Jeffrey allora cosa fa? Prova insistentemente a incolpare Dakota che era fidanzato con la ragazza scomparsa e ritiene che Jessica potrebbe essere scappata da lui spiegando così il mancato ritrovamento del suo corpo. In realtà non è morta. Emerge solo a questo punto che sia Jessica che Dakota avevano problemi di dipendenza. Al momento della scomparsa della donna stavano assumendo del metadone. Tuttavia le sue amiche, la sua famiglia e Dakota stesso affermano che questa dipendenza non aveva influenzato la capacità di Jessica di essere una madre straordinaria e un'impeccabile lavoratrice. Dakota testimonia confermando che avevano una relazione difficile. Ammette che durante un litigio erano passati alle mani e che stavano lottando per riuscire a sbarcare il lunario. Lui era disoccupato e Jessica si faceva in quattro per mantenere lei, Dakota e il loro figlio. Onestamente il mio pensiero è che la loro storia fosse tossica più che complicata. Entrambi avevano commesso degli errori e la difesa come detto insinua che Dakota avesse fatto del male a Jessica spingendola a scappare lontano e a disperdere le proprie tracce. Dakota però ribadisce che Jessica aveva un legame molto stretto con sua madre, con le sorelle e con la nonna, che amava suo figlio con tutta se stessa e non avrebbe mai nemmeno pensato neanche per un secondo di abbandonarlo. Del resto Jessica aveva avuto l'opportunità di allontanarsi senza separarsi drasticamente da suo figlio. Un'amica le aveva offerto di trasferirsi da lei ma Jessica aveva rifiutato perché non voleva rinunciare alla quotidianità con Zevin. Al banco dei testimoni salgono anche alcune persone che erano a contatto con l'imputato Jeffrey. Ad esempio una sua ex collega afferma che diversi giorni successivi alla scomparsa di Jessica lui si era presentato al lavoro dopo un po' di tempo che mancava e aveva addosso un sacco di graffi. Quando la collega gli aveva chiesto come se li fosse procurati lui aveva risposto che aveva appena preso un cucciolo. In realtà quei graffi indicavano che Jessica aveva lottato per la sua vita mentre lui la stava uccidendo. La stessa collega testimonia anche che un paio di mesi prima, nel fine settimana del 22 febbraio 2013, aveva notato che la sua pistola era scomparsa da casa. Inizialmente non aveva collegato questa sparizione a Jeffrey ma poi aveva riflettuto sul fatto che lui sapeva dove lei la custodiva e in effetti l'arma da fuoco della collega corrisponde a quella trovata nell'auto di Jeffrey, stessa cosa vale per i proiettili usati per uccidere Rebecca. Dopodiché prende la parola a un dottore che si esprime sull'insulina rinvenuta nel minivan di Jeffrey. L'ex moglie di Jeffrey è diabetica ecco perché lui possedeva quell'insulina in grandi quantità. Il medico spiega che si tratta di un farmaco ad azione rapida e se lo si inietta in una dose sufficiente può rendere chi lo assume completamente incapace di agire coscientemente. Poi i detective intervengono sulla questione della casa appartenuta al nonno di Jeffrey dove credono che lui avesse portato Jessica per assalirla e ucciderla. Perquisendola avevano notato che sia la porta del seminterrato che un'ulteriore porta all'interno del sotterraneo erano chiuse con dei lucchetti. Riuscendo ad accedervi avevano individuato quasi una dozzina di bottiglie di candeggina e detergenti tutte vuote. Un ritrovamento non di poco conto. Il processo si conclude dopo sei giorni e in 90 minuti la giuria torna con il verdetto. Ritiene Jeffrey Willis colpevole del rapimento di Jessica e di omicidio di primo grado. Nel maggio del 2018 l'imputato viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Lui prova a fare appello due volte ma gli viene sempre rifiutato ed è ancora in prigione. Jeffrey Willis morirà dietro le sbarre. Ancora oggi a distanza di più di un anno purtroppo i resti di Jessica non sono stati trovati. Jeffrey Willis non ha mai rivelato dove aveva nascosto il suo cadavere e questo è sicuramente terribile per la famiglia della vittima. In casi del genere risolti ma senza alcun corpo su cui piangere e a cui ridare una degna sepoltura i familiari non possono che essere straziati nonostante abbiano ottenuto giustizia. Io come i suoi cari spero vivamente che un giorno Jessica verrà ritrovata così la sua famiglia potrà celebrare il funerale e farle visita al cimitero come merita. La famiglia di Jessica si è impegnata per migliorare la sicurezza nelle attività commerciali che operano di notte come mini market e distributore di benzina. La loro iniziativa ha portato alla creazione di una legge nota come legge Jessica Heringa che mira a ridurre il rischio di crimini come rapimenti e aggressioni. Una delle principali disposizioni della legge richiede l'installazione di telecamera a circuito chiuso in questi tipi di attività commerciali. La loro presenza infatti può sia fungere da deterrente per i criminali sia fornire prove cruciali in caso di incidenti o reati. Il cambiamento legislativo promosso con questa campagna è stato volto soprattutto alla tutela delle giovani donne che lavorano di notte da sole anche con l'obiettivo che siano sempre affiancate da almeno un altro dipendente. Se ricordate alla stazione di servizio Exxon dove Jessica lavorava da sola non c'erano telecamere di sorveglianza ma la loro presenza probabilmente avrebbe reso le indagini decisamente più semplici. Forse Jeffrey Willis sarebbe stato arrestato e accusato molto tempo prima dunque non avrebbe potuto commettere il secondo omicidio quello di Rebecca Blesch nel 2014. Alcune fonti consultate riportano che la legge è stata approvata nell'ordinamento dello stato del Michigan nel marzo del 2020 mentre altre sostengono che non sia ancora stata introdotta ufficialmente. Un altro risvolto relativo alla triste vicenda di Jessica è che sua madre e le sue sorelle hanno avviato una causa contro Dakota per ottenere la custodia del figlio il piccolo Zevin. Le donne della famiglia Heringa sono state guidate dalla convinzione che lo avrebbero allevato meglio del padre e nel modo in cui Jessica avrebbe voluto. Alla fine la custodia di Zevin è stata affidata a Samantha una delle sorelle di Jessica. Zevin ormai vive con sua zia da circa 10 anni. Arriviamo alle conclusioni. Questo è un caso davvero orribile ed è solo grazie a quella tenace giovane di 16 anni che Jeffrey Willis è stato identificato e arrestato. Come vi ho detto non è stato reso pubblico il nome della ragazza e mi dispiace per questo perché avrei voluto sapere qualcosa di più su di lei e su come stia oggi. La sua esperienza deve essere stata terribile traumatica ma ha avuto un gran coraggio. Se non si fosse lanciata da quel minivan in movimento e non fosse corsa via probabilmente sarebbe stata l'ennesima vittima di Jeffrey. Si ipotizza tra l'altro che Jeffrey Willis potrebbe aver ucciso altre ragazze e quindi essere un serial. In particolare potrebbe essere il responsabile dell'omicidio di una ragazza di 15 anni di nome Angela Marie Torberg. Era una studentessa della stessa scuola superiore frequentata da Jeffrey. Era scomparsa ed era stata uccisa alla fine del 1996. Jeffrey all'epoca aveva 25 anni e molte persone sospettano che Angela possa essere stata la sua prima vittima o una delle prime. Tuttavia non sono mai emerse prove sufficienti per accusarla del crimine e purtroppo il caso di Angela rimane tutt'oggi irrisolto. Detto questo ragazzi io ho finito di parlare in questo video e ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Secondo voi Jeffrey Willis potrebbe essere un serial? Avrà ucciso anche Angela? Io temo che sia molto ma molto probabile. Come sappiamo Jeffrey ha pianificato, premeditato l'aggressione e il rapimento di Jessica in modo preciso e questo mi porta a pensare che lei non sia stata la sua prima vittima. Jeffrey secondo me sapeva quello che stava facendo perché l'aveva già fatto prima. Inoltre aveva già 43 anni quando ha ucciso Jessica e mi pare improbabile che una persona disturbata come lui avesse aspettato così tanto tempo per commettere un simile orribile crimine per la prima volta. Ogni vittima di questo caso non è solo un nome sulla lista di un criminale ma una persona con una vita, sogni e famiglie ormai spezzate. Mi auguro che le storie di Jessica e Rebecca fungano da impegno collettivo per costruire una società in cui la sicurezza di ogni individuo, specialmente di chi è più esposto al pericolo, sia una priorità ineludibile. Io come già vi ho detto sono curiosa di sapere le vostre opinioni, conoscevate questo caso? Cosa ne pensate di questo caso? Che sentimenti vi ha suscitato ascoltare questa storia? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti, io vi leggo tutti con molto molto interesse. Nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!